E' un bel effetto, ho la fortuna di giocare in uno stadio importante, per un pubblico importante e fa sempre un bel effetto. Ma Rolando. Ma no, secondo me ne so un po' io. E' un bel effetto. E' un bel effetto. E' un bel effetto. André qua, tu sei il prodotto del risultato, è vero quello che chiede, eh? E' un bel effetto. E se avresti aspettato la convocazione nazionale? Ma io ci speravo perché, da un lato, sai, pensavo di meritarlo, ho visto altri nomi, però non è arrivata e continuerò a lavorare per far sì che possano chiamarlo. E' un bel effetto. 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 giocando da sempre, ho sempre preferito giocare a calcio per altri sport, poi ho detto troppo, ero bravo in altri sport, però alla fine è matematica nel calcio e è andata bene così. Ma non è stato bene il suo perché va, sarà andata bene perché chissà quanto sei impegnato, vero? Chiediamo poi i vari sacrifici che hanno dovuto fare. Ci sono tanti sacrifici che lo deve fare, sono un ragazzo giovane che magari deve fare altre cose, non è facile, non è per tutti, poi ci vuole anche tanta costruzione, non è anche giusto, posto giusto. Cioè tutta una serie di cose che a chi non pensa di andare a cercare.